C'è attesa a Gela per l'incontro di oggi pomeriggio al Ministero dello Sviluppo Economico che vedrà attorno ad un tavolo il Vice Ministro Claudio De Vincenti, il numero 2 di Eni, Salvatore Sardo, il Presidente della Regione, Rosario Crocetta, il Sindaco Angelo Fasulo ai vertici nazionali, regionali e provinciali di Cigelle, Cisle Will. Si affronterà il nuovo piano industriale del cane Asse e Zampe, un piano che, lo ricordiamo, purtroppo prevede una riconversione della raffineria di Contrada, Piana del Signore, riconversione simile ad un abbandono, così come più volte sostenuto dai sindacati, bisognerà capire cosa ha spinto l'amministratore delegato del colosso industriale Claudio Descalzi a fare marcia indietro rispetto all'accordo siglato dal suo predecessore Paolo Scaroni il 19 luglio del 2013, che prevedeva invece investimenti per quasi 700 milioni di euro al fine di trasformare la produzione da benzina a gasolio. Quell'accordo è come se fosse stato riposto nel dimenticatoio. E Gela soffre, soffrono 3.500 operai tra diretto e indotto, soffrono le loro famiglie e come ripetito anche durante lo sciopero per il lavoro di lunedì scorso a Gela, potrebbe piangerne l'intero tessuto occupazionale del territorio. E ieri, per far sentire che Gela vuole la raffineria, vuole che si continui a lavorare, 500 operai si sono ritrovati dinanzi a Palazzo Montecitorio a Roma, nel corso della mobilitazione generale, che ha visto la partecipazione anche di numerosi operai giunti da Mantova, Livorno, Porto Marghera. Anche loro vivono l'identica situazione dei colleghi giolesi. Sotto un sole ecocente hanno assistito agli interventi dei segretari nazionali di Cigelle, Cigelle Will, Susanna Camusso, Raffaele Bonanni e Luigi Angeletti. C'erano anche i segretari provinciali, Emanuele Gallo, Francesco Miliani, Gaetano Catania e Maurizio Castania. A tutti loro è stato chiesto un intervento risolutivo con il Governo nazionale e con i vertici di Eni. E che sia veramente un intervento risolutivo, le parole hanno detto ieri, lasciano il tempo che trovano.